Presentata la ventitresima edizione del premio Alfredo Catarsini dedicato alle persone con risabilità visiva. Il calendario 2025 del corteo storico di Pontassieve quest'anno devolverà il ricavato delle offerte a Milano 25 Onus di Caterina Bellandi conosciuta come Zia Caterina. Il nuovo programma di Natale ad Arte a Ponte Vera che quest'anno sarà nel segno di Enrico Bari e Giorgio dal canto. Il premio Catarsini nel segno della liberazione. Presentata al Media Center di Palazzo del Pegaso la ventitresima edizione del premio Catarsini dedicato alle persone con disabilità visiva. Realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico e Regionale per la Toscana e la Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana il premio è dedicato ai portatori di disabilità visive. Un premio importante che riesce a tenere insieme l'arte, l'impegno sociale e i giovani. È bello poter ospitare qui la ventitresima edizione del premio Catarsini. È uno di quegli artisti che hanno portato in alto il nome della Toscana. Un artista che anno dopo anno viene sempre più riconosciuto ed è bello che questo premio si apra alle nostre ragazze, ragazzi più giovani, alla loro capacità di sapere stare sulla frontiera del cambiamento che ha anche l'arte in grado di saper produrre ed è qualcosa di unico il fatto che questi elaborati vadano nella direzione di far conoscere e vivere l'arte anche a chi non può vederla, ma può sentirla, può toccarla. Qui c'è davvero la potenza, la bellezza di questo premio e qui ci sta anche la voglia da parte di chi lo organizza, di saper stare e saper tenere insieme l'arte, il sociale, i giovani. La fondazione ha deciso di premiare opere tattilmente esplorabili che terranno spunto dall'ottantesimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Le opere si ispireranno a due cicli di affreschi che Catarsini realizzò negli anni 1944 e 1945 in Lucchesia. Saranno ispirate quest'anno a due cicli di affreschi di Catarsini, uno di San Martino in Freddana del 1944, quindi realizzato proprio in quella, ahimè, famigerata estate del 1944, e il ciclo di affreschi di Castagnoli invece del 1945. Quindi siamo agli 80 anni della liberazione, due iconografie assolutamente diverse di questi affreschi e i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi con questa nuova avventura. Un esempio sia di educazione civica che un'iniziativa diretta nell'arte, molto interessante per gli studenti e per le scuole. Noi abbiamo mandato alle scuole il banto per poter partecipare a questa iniziativa importantissima. riteniamo che è un'esperienza molto bella per gli studenti e per le scuole perché appunto è un esempio sia di educazione civica che di esperienza diciamo nel settore dell'arte, quindi in questo momento è molto importante. Un premio speciale dedicato ai giovani che lavorano per creare arte fruibile anche a persone non vedenti, spiega la madrina dell'evento. Lavoro per il programma Striscia la Notizia e ho un altro programma su R101 che è la radio che mi accompagna in questi anni e faccio questo programma che si chiama Fantastico Weekend e oggi sono qua apposta come madrina di questo evento speciale dedicato ai ragazzi e ai più giovani ma soprattutto ai giovani che lavorano per altri, persone non vedenti, ipovedenti, che potranno avere accesso all'arte perché l'arte, la cultura deve essere accessibile a tutti e quest'oggi siamo qua apposta per questo. La Fondazione Catarsini è particolarmente sensibile al tema dell'accessibilità e si propone di abbattere qualsiasi tipo di barriera. La Fondazione Catarsini offre l'opportunità oggi di soffermarsi di fronte al tema della disabilità visiva che è un tipo di disabilità ma come Ministero della Cultura vorrei portare il messaggio che sono uscite recentemente delle linee guida sull'accessibilità in modo tale da far diventare proprio una materia a livello proprio di strategia che è ben strutturata all'interno del Ministero Cultura. Quindi oggi trovare un museo che consente l'accessibilità magari per disabilità visiva significa trovare un museo che rispetta degli standard qualitativi. Per quanto riguarda la Fondazione Catarsini c'è stata l'opportunità di presentare le attività della Fondazione recentemente presso il Museo Omero di Ancona che è un'eccellenza, è considerato un'eccellenza a livello internazionale e quindi insieme alla Presidente Elena Martinelli è stato presentato questo progetto e quindi vogliamo far conoscere le attività della Toscana non solo all'interno della Toscana ma anche in altre regioni affinché venga preso questo esempio come esempio virtuoso. Uno degli aspetti più interessanti dell'attività di questa fondazione è proprio la disponibilità a rendere accessibili a fare iniziative che possano rendere accessibili il patrimonio culturale a persone con disabilità in questo caso per la cecità. È un tema molto importante anche in generale per i musei infatti vi sono iniziative nei musei statali, c'è il Museo Omero ad Ancona che è dedicato a questo nei nostri musei facciamo nel possibile delle attività di questo genere però devo dire la Fondazione Catarsini con l'entusiasmo che caratterizza la Presidente Elena Martinelli è molto avanti in questo proprio con la volontà di creare attraverso anche il rapporto con le scuole delle iniziative e un premio che è mirato appunto a individuare degli elaborati, delle opere che possono essere poi rese accessibili attraverso il tatto e altre forme alle persone con disabilità visiva. Il calendario del corteo storico di Pontassieve annuale appuntamento con la cittadinanza e tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza devolverà quest'anno il ricavato delle offerte a Milano 25 Onlus di Caterina Bellandi, conosciuta come Zia Caterina Taxi Milano 25 che nel novembre del 2007 in Palazzo Vecchio l'allora assessore Eugenio Gianni nomina Milano 25 ambasciatrice di solidarietà per la città di Firenze. Il calendario 2025 del corteo storico di Pontassieve con i suoi figuranti e affezionati amici ritratti in belle immagini attraverso lo scatto fotografico di Palmiro Stanzucci è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Vestiamo questi vestiti per raccontare la nostra storia, la storia del comune di Pontassieve che ci rappresenta. Vestiamo questi vestiti anche per adoperarci, per dare opportunità di solidarietà non soltanto la nostra cultura ma anche la beneficenza. In questo caso da più di dieci anni il nostro corteo realizza un calendario che il ricavato delle vendite a offerta libera vengono donate a delle associazioni. In questo caso quest'anno è Zia Caterina con il suo taxi Milano 25 che ci ha condotto in lungo e in largo per questa bellissima città e per le nostre città limitrofe, Rufina, Pontassieve, Pelago e Bagnarripoli per scattare degli scatti straordinari di Palmiro Stanzucci. I figuranti ovviamente vestono gli abiti per raccontare la nostra storia e hanno fatto da cornice i tanti sponsor, le tante persone che si sono adoperate per dare un contributo perché tutto questo potesse accadere sono qui con noi oggi alle quali va il mio ringraziamento a loro e ai tanti cittadini che ci vedevano scattare vestiti di foggia un po' strano sorridendo e scattandoci un selfie per divertirsi. Portate il nostro calendario nelle vostre case, il calendario di Zia Caterina seguiteci sui social e fate sì che ognuno di noi possa divertirsi e cerchiamo di dare un sorriso a chi non ce l'ha più. Un calendario che ogni anno porta oltre bellissime foto del territorio porta anche tanta beneficenza. Quest'anno è stato legato a quello che fa Zia Caterina a un lavoro veramente importante e veramente davvero che ci piace tanto perché comunque dà la possibilità a tante persone di curarsi e farlo in una maniera di accoglienza di venire in Toscana e sentirsi in qualche maniera a casa ecco quindi siamo contentissimi di dare questo contributo siamo come Comune di Fontaseve abbiamo fin da subito sposato il progetto di Alessandro e davvero io non posso che ringraziare chi ogni giorno con la propria attività, con il proprio volontariato poi porta a casa anche dei risultati da un punto di vista di beneficenza quindi oggi siamo qui a presentare questo calendario speriamo insomma che le vendite vadano bene e che si possa veramente contribuire ancora una volta a dare un segnale forte di quanto la Toscana può essere solidale con chi ha bisogno. Presenta alla conferenza stampa di presentazione del calendario anche Caterina Bellandi meglio conosciuta come Zia Caterina la tassista allegra e contagiosa che insieme al suo taxi super colorato donna serenità ai bambini malati e alle loro famiglie la tassista più amata da grandi e piccini mi ha spiegato da dove sia nata l'idea dell'iniziativa l'idea nasce dall'amore quando ti vedono in difficoltà chi ti vuole bene ti viene incontro non puoi guidare si fa qualcosa di bello insieme ora è il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa e allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi con delle persone straordinarie che mi hanno aperto un mondo un mondo che adesso un pochino mi appartiene un'iniziativa splendida un'iniziativa che tiene insieme non solo l'identità del nostro territorio il corteo storico di Pontassieve ne rappresenta una delle facce più belle ma che ha anche la capacità di saper coniugare aspetti di solidarietà ecco questo calendario ha la funzione di sostenere di valorizzare l'impegno e zia Caterina che è un angelo per tutti noi mette a disposizione delle nostre comunità in quel saper tendere la mano in quel saper guardare negli occhi in quel saper accompagnare bambine e bambini famiglie che soffrono ci sta davvero il servizio più grande che si può donare ad una comunità spesso la politica non è all'altezza di quello che zia Caterina fa e quindi voglio dirle pubblicamente grazie ci ho messo la faccia per quello che potevo perché penso che un'iniziativa come questa debba avere il sostegno di tutte le istituzioni e quindi a lei al corteo storico di Pontassieve grazie perché è un'altra giornata bella per la nostra regione Natale ad arte a Pontedera per il Natale 2024 Pontedera si prepara a ricordare Enrico Bai e Giorgio Dal Canto due grandi artisti del territorio che hanno portato la città alla ribalta della Biennale di Venezia nel 2011 sono state presentate le iniziative di Natale ad arte che si terranno durante il periodo festivo e che investono sempre di più sulla cultura e sul territorio è un'iniziativa che ci dice sempre più con forza che ogni volta che si investe in cultura si investe in arte si investe in libertà si investe in coscienza critica quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte o si crea la connessione o non si crea non è questione solo di bellezza anche in quel caso si accende una luce la luce del nostro cuore e in questa iniziativa si tiene insieme il territorio tutto il territorio perché le opere non saranno solo negli eventi solo nel centro della città ma in maniera diffusa in tutta Pontedera Pontedera è una città dalla storia industriale molto importante ma è una città che negli anni è investito nell'arte è investito nella cultura un teatro importante ed è un luogo di riferimento per tanti tanti artisti un messaggio di forte impatto che prosegue con il progetto culturale Arte per non dormire che il comune di Pontedera promuove da ormai sette anni un Natale importante è l'artezza di una città che sull'arte e sulla cultura continua a fare passi in avanti contaminare di arte e cultura la nostra città vuol dire stimolare la discussione sul valore del bello e quindi ognuno di noi si può confrontare su quello che piace e che non piace ma è già un salto di qualità importante parlare del bello grazie alla cultura creatività diffusa cultura partecipata vivacità di suoni luci e colori saranno i protagonisti del Natale Pontederese numerosi eventi itineranti musicali e canori coinvolgeranno varie associazioni e scuole del territorio non mancheranno animazioni nelle frazioni al villaggio Piaggio mercatini natalizi la baia di Babbo Natale la ruota panoramica lo skating palace e il Christmas Park ci aspetta un cartellone ricco di iniziative culturali che vedranno un omaggio particolare a due artisti importanti il primo è Giorgio Dalcanto artista poliedrico e una delle figure più importanti del nostro panorama culturale cittadino e non solo e l'altro è Enrico Bai un omaggio importante a cento anni dalla nascita e a vent'anni dal cantiere che ha visto nella nostra città la realizzazione dell'opera il muro di Pontedera una tra le più importanti opere di arte plastica nel territorio nazionale le luci si sono accese sabato 9 novembre con un omaggio a Bai artista che ha donato a Pontedera il suo celebre muro un ricordo nel progetto Arte per non dormire che anima il periodo natalizio pontederese per non far diventare l'esperienza solo consumistica e per dare una scia più colta alla città l'iniziativa fa parte dei programmi di Pontedera Arte per non dormire dentro a questi programmi ci sono la mostra di Enrico Bai a cento anni dalla nascita poi Babbe una retrospettiva e poi l'illuminare di Pontevedera una mostra a Palazzo Pretorio per ripercorrere le produzioni artistiche di Giorgio dal canto con opere provenienti prevalentemente da collezioni private è un po' di tempo che con Michele Quirici che ha redatto la pubblicazione una pubblicazione importante un volume di 360 pagine che racchiude tutta la vita dall'inizio di questo artista di Pontedera che ha qualcosa da dire purtroppo l'artista è scomparso nel 2016 e ora noi facciamo una bella retrospettiva di tutta la sua vita delle sue opere e delle bugie che sono contenute dentro i suoi quadri era un'iniziativa una mostra che aspettavamo da molto tempo su un artista di Pontedera le cui opere sono presenti nelle case dei Pontederesi ma che ha un respiro sicuramente internazionale per la storia e per le esposizioni che ha fatto anche la Viennale di Venezia pensiamo e siamo sicuri che sarà una mostra molto interessante perché è un artista che si presenta a varie sfaccettature di lettura che ha descritto la città ma descrivendo la città ha anche descritto bene quella che è la sua idea di società e quindi insomma penso che il valore artistico di contenuto sia molto alto Due artisti dal respiro internazionale che tornano in spazi diversi con diverse motivazioni per una città che sempre più spesso sta abbracciando l'arte contemporanea Da una parte l'illuminazione della città dall'altra due personalità illuminanti quindi sono tre momenti di grande diciamo vitalità di una città che ha sposato da tanto tempo l'arte contemporanea con una sorta di fatemi utilizzare questa espressione una sorta di rivoluzione culturale da una città votata essenzialmente all'industria a una città che progressivamente si è votata all'arte contemporanea la città di una città di una città di una città di una città di un po' Grazie.